Nel video di oggi vi voglio mostrare come ridimensionare una foto con Affinity Photo. Ho già aperto la mia foto e devo andare su documento qui sopra nel mio menu e fare qui ridimensiona documento che è diverso da ridimensiona tela. Vi faccio vedere come funziona ridimensiona tela in un altro video. Quando io vado a cliccare su ridimensiona documento intanto mi dà le dimensioni effettive del mio documento. Per poterne modificare le dimensioni basta che io vado a modificarle qui dentro. Ad esempio io ora gli voglio dare una dimensione di 1000 pixel e poi premo su invio. In realtà non vedete cosa è successo perché in questo caso l'unica cosa che possiamo vedere è che se io vado a ingrandire molto la mia foto, ora clicco su ridimensiona. Se la vado a ingrandire molto vedete che si vede tutta pixelata perché io l'ho diminuita molto di dimensioni quindi quando zoomo si vedono i pixel perché è come se io avessi ridotto i pixel che vanno a comporre la mia la mia foto. Clicco su ctrl z perché voglio tornare un attimo indietro e farvi vedere una cosa. Sono su documento qui sempre torno su ridimensiona documento e vedete cosa ho fatto prima. Io ho detto che diciamo il lato della larghezza doveva essere di 1000 pixel e poi ho premuto su invio e qua automaticamente mi ha detto che l'altezza era 750 pixel. Questo perché in genere è attivata qui la graffetta che mi fa in modo che queste due dimensioni vadano di pari passo per mantenere le proporzioni della foto. Io vi consiglio di tenere sempre la graffetta attivata a meno che non vogliate ottenere effetti particolari perché se non lo fate quello che succede è questo. Torniamo qui a scrivere 4000, ora premo su invio e 4000 per 3000 ecco le proporzioni mantenute. Se però io ora disattivo la graffetta scrivo qui 1000, premo su invio e quindi ora è 4000 per 1000 pixel, faccio ridimensiona e guardate cosa è successo. La mia foto si è completamente strecciata e di solito non è l'effetto che vogliamo ottenere quindi state attenti attenti a tenere sempre attiva la graffetta. Se questo video vi è stato utile vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!